Uno screening di massa che ha dato ben oltre le previsioni e che evidenzia una molteplice richiesta dell'utenza sotto il profilo della prevenzione. E questo l'aspetto più significativo ed importante da cogliere secondo Rosaria Bruno nella giornata dedicata allo screening della malattia tiroidea e delle neoplasie della mammella. Un discorso già portato avanti dall'ASL e che ora acquista ancora più rilevanza grazie al coinvolgimento di più forze capaci di operare a tutto campo sul territorio. Donne di ogni età in fila dalla prima mattinata fino a saltare anche il pranzo pur di sottoporsi ad una visita specialistica gratuita. L'attesa è tutta per Carlo Iannace, chirurgo coordinatore del centro multidisciplinare di senologia dell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Abbiamo visto che ci sono forti affluenze di giovanissime questa è una cosa molto importante per il futuro. Dobbiamo ringraziare soprattutto loro che permettono di questo tipo di percorso per cui anche perché non fanno fare quella specie di sensazione brutta di affrontare un nodulo che già è palpabile. Bisogna cercare di trovare sempre le sessioni sempre più piccole e non palpabili in maniera da poter affrontare discorsi sempre più iniziali. In genere ogni ambulatorio riusciamo a portare ad intervento una o due persone ed è tanto perché considerando il fatto che noi facciamo sempre una visita e diciamo dobbiamo ringraziare i colleghi ecografisti che riescono a fare un ottimo lavoro anche e di collaborare tutti insieme nel fare questo tipo di iniziative e diciamo fare un buon lavoro anche non solo di controllo nel tempo. Iniziativa patrocinata dal comitato locale della Croce Rossa, Rotary Club Bavelino Est Centenario e dall'AMDOS. L'attività di prevenzione si è svolta all'interno del centro sociale in località Santa Barbara d'Ariano Irpino ed è stata garantita dalla disponibilità di sanitari esperti e sensibili a tali problematiche. Questa è un'iniziativa nella quale siamo entrati diciamo come partenariato recentemente ma Emilia ormai ha una come voglio dire un'esperienza inveterata per questa per questo tipo di attività e diciamo che come sempre ogni anno diventa sempre crescente il numero delle donne e delle persone che aderiscono a queste iniziative. È un discorso che parte da lontano. Sì assolutamente sì anche perché sul territorio ci sono molti casi e quindi in questo momento anche di crisi è opportuno insomma farsi controllare sempre di più a tappeto. C'è stata veramente una grande affluenza e innanzitutto devo ringraziare tutti coloro che si sono prestati con grandissima generosità a fare questa iniziativa e devo dire che l'affluenza ha testimoniato il fatto che c'è un'esigenza sociale di servizio e che noi cerchiamo di in qualche modo di supportare, cerchiamo di soddisfare però ci rendiamo conto che probabilmente sarà necessario ripetere questa esperienza ancora per venire incontro appunto a questa esigenza che si è manifestata. Un impegno quindi che continuerà? Un impegno che continua e Rotary come ho già avuto modo di dire più volte tende a cogliere le esigenze della società, a farle proprie e cercare di soddisfarle e cerchiamo insomma di fare quello che possiamo per andare avanti su questa strada.